Signorina Poet. All'avvocatessa. Dottoressa Poet. Avvocata! Lydia! Che ci fai qua? Non so da dove cominciare. Questa è irrefrenabile pulsione a mettermi nei guai. Signorina Perfettini. Non date le corda. Sembra un angelo, in realtà è vendicativo. Mi lusinghi così. Se le donne potessero candidarsi, io voterei per lei. Vorrei essere iscritta alle liste elettorali. Lei è una donna. Corretto.